Aialo, primo tempo quasi impeccabile, poi nel secondo tempo siete partite un po' sottotono. Sì, primo tempo quasi perfetto, abbiamo sbagliato tante tante occasioni e questo ci ha penalizzato anche nel secondo tempo perché la potevamo chiudere prima e invece siamo trovate a dover rincorrere il risultato. Ma vi aspettavate una reazione da parte della Polisportiva Sense? Tra l'altro era una delle squadre che qui aveva guadagnato in passato ben due vittorie nelle altrettanti gare giocate. Beh sì, gli avversari sono una squadra preparata e lo sapevamo, non ci aspettavamo di fare un grande risultato, anzi comunque le temiamo sempre perché hanno sempre vinto, quindi eravamo pronti anche a questo. Allora, gestire adesso questo momento perché è un momento molto difficile, gli infortuni purtroppo si sono venuti uno dietro l'altro e per voi vi ha creato molte difficoltà. Qualcosa si sta facendo per recuperare, sembra Miccio almeno rimessa bene ma sembra out fino alla fine della stagione d'Alessio. Sì, la mancanza di Linda si sente sia per il cambio sia nello spogliatoio, in campo, purtroppo non era prevedibile come cosa, noi cerchiamo di mettercela tutta anche per lei che comunque ci fa sempre il tifo. Mister Capatti della Polisportia Ostienza, avete provato fino all'ultimo a vendere, no, cara la pelle però ci avete provato, primo tempo chiusa qualche incursione da parte della Coccinella che poteva chiudere ampiamente il primo tempo e tra l'altro anche meritato, però nel secondo tempo voi non avete de certo demeritato. No, infatti faccio i complimenti ai nostri avversari che comunque sono stati in una squadra che è sempre stata in partita, ha avuto le sue occasioni. Noi abbiamo venduto cara la pelle, parole più precise non ci possono essere, un po' di amarezza la metto in conto perché... Serviva forse partire un po' diversamente, un piglio diverso. Sì, però purtroppo come ha visto durante la partita la rosa un po' corta, tre defezioni questa settimana, tanto carico di lavoro... Ce ne vuole poi tante, poi soprattutto tanta pazienza, vogliamo ricordarlo, Mister Capatti da poco alla guida di questa squadra. Sì, la prima partita ufficiale è stata quella con la Sabina e quindi... È iniziato un nuovo ciclo la Polisporti Ostianzio. È un nuovo ciclo che sta nascendo e l'obiettivo comunque è quello della salvezza, quindi dobbiamo guardare ovviamente a incontri come questi con la tranquillità di poter anche non fare punti, ma poi ci saranno partite dove invece il risultato sarà più importante. Quali saranno però queste partite, diciamo abbassare, guardarsi un po' chi c'è sopra o chi è alle spalle, che magari fa dei piccoli passi però sono poi concreti? Noi dobbiamo sempre comunque guardare chi è sotto di noi, lasciare lontano chi ci sta sotto ci permetterebbe comunque di andarci a giocare un play-out agevole e forse, visti i punti, anche magari non giocarlo a un certo punto, quindi noi dobbiamo guardare per forza chi fa sotto cercando di fare qualche scherzetto di qua e là per la regione. Prendere tutto quello che è buono. Tutto quello che viene, sì, sì, sì. Oltre che alla squadra avversaria perché veramente hanno interpretato un tempo e mezzo di altissimo livello, se avessero avuto un approccio leggermente migliore probabilmente oggi festeggeremo un punto almeno. Sì, sì, forse festeggeremo almeno un punto. Questa è comunque la strada giusta per continuare.